Il sistema che stiamo sviluppando qui all'IRX Neuromed permette tramite l'utilizzo di un computer, una webcam e un software facilmente eseguibile dal computer del paziente, la connessione di quest'ultimo al proprio medico. Il software è in grado di inviare flusso video della webcam del paziente ai nostri server che si occuperanno dell'estrapolazione della sagoma di quest'ultimo e del calcolo del suo scheletro per la quantificazione dei movimenti. Il medico inoltre sarà in grado in ogni momento di vedere sia il paziente nella sua webcam che lo scheletro estrapolato dall'intelligenza artificiale. Quest'ultimo renderà possibile al medico un'analisi quantitativa della terapia del paziente per capire se i movimenti sono effettuati in maniera esatta o bisogna agire in qualche modo sulla terapia già data al paziente. Il progetto che presentiamo oggi è quello della telereabitazione, la possibilità di seguire a distanza la reabitazione e la cura di pazienti cronici. L'obiettivo è chiaramente quello di garantire la continuità di cura, mettere al centro dell'attenzione il paziente e soprattutto la sua famiglia. Grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale è possibile ricostruire questa attività cinematica e posturale che viene messa a disposizione di un centro di raccolta e soprattutto del centro di reabitazione che valuta le attività reabitative. Con questo sistema quindi sarà possibile continuare a garantire attività di reabitazione e cura anche di pazienti che continueranno a essere a casa in seguito all'emergenza nazionale Covid.